La 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 Ma no, Natale, voglio vedere le cose! Signora maestra, se mi dà una mano le faccio uno schizzo alla lavagna! Le puoi dire! Ammossa, se ti ottiene sempre, butta fuori il turi di merda che c'è! Questa è una pezzerina! Un fottutissimo turi! Questa cazzo! E dove siamo? A scuola siamo! Emanuele, parlami della tua famiglia! Quella puttanezza della tua madre! Quando venuti sempre a me, che cazzo di puttanezza! Oh, puttana, puttana, puttana! Pettata, puttana! Emanuele, parlami della tua madre! Emanuele, parlami della tua madre! Emanuele, parlami della tua madre! Oh, si! Cazzo di te! Puttana, poca! Maestro, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, maestro, maestro, non lo so, Qual è la morte di l'Istria? Non lo sento? Non lo sento? Non lo sento? Vieni la tua panica! E' un peggio della mia sorella! E' un gampino dell'uomo di morato! Anche la mia sorella! E' un peggio di qua! 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 Ma se la messeria! E te te dò un fatto di insomma d'oro! Ma stanna cos'è? E' un peggio di mio genitore! Le faccio vedere qua! E' un peggio di qua! E' un peggio di mio genitore! ma che soddisfazione mi hai sbagliato e questo lo dice il copione però io sono soddisfetto ma che cosa c'è una domanda qual è? qual è le mani? in casa Emanuele deve stare attento ma tu lo sapevi già da qui e questo non c'ha due palle grosse così la minchia la minchia la minchia però fa abbastanza caldo fa parecchio caldo cazzo quando caghi mica stai tranquillo